Leggo un messaggio che è simpatico, Leonardo Marinelli scrive ottima idea presentare un telefono in questo modo, è strano vedere ad esempio Galeazzi o Emilio perché dice di solito si vedono solo le mani, perché effettivamente loro provando molti telefoni l'inquadratura è sul telefono e di conseguenza si vede il telefono e le mani e quindi sicuramente anche questa è stata una buona idea. Sentiamo anche Luca e Luigi sulla maturità di Android, poi ho un paio di domande per Samsung. Sono d'accordo anch'io con i colleghi, anche perché comunque preferisco i sistemi open rispetto a quelli chiusi e credo che sicuramente con la versione nuova 2.2 la maturità sarà quasi quasi completa. Spero che gli operatori stiano vicino agli utenti per poter sfruttare tutte le caratteristiche e le funzionalità di un sistema come quello di Android. Luigi. Innanzitutto volevo tornare un attimo sul discorso di prima per una precisazione. Ho parlato di Snapdragon per il discorso dei processori da 1 giga, ma il Galaxy monta un Cortex A8 e poi volevo confermare i 90 milioni di triangoli al secondo. Invece parlando di Android, un'altra caratteristica diciamo molto apprezzata è la velocità di aggiornamento rispetto a molti altri sistemi operativi e soprattutto la crescita, lo step da un gradino inferiore a quello superiore e la quantità di migliorie introdotte.